Buongiorno e ben ritrovati. Oggi siamo a Trani dove vi presentiamo una soluzione perfetta per voi. Situato a pochi passi dal centro in una zona ricca di servizi, scuole e negozi di prima necessità, precisamente in via Sant'Agostino. Questo appartamento è posto al terzo piano offrendovi comfort e comodità. Entrando sarete accolti da una luminosa cucina abitabile con accesso diretto al balcone. Proseguendo troverete una camera da letto singola servita da una finestra per garantire un'ottima luminosità naturale. La camera matrimoniale, anch'essa spaziosa e luminosa, offre un affaccio sul balcone per godere di un'atmosfera rilassante. Il bagno moderno è completamente ristrutturato e include anche un pratico angolo lavanderia. Inoltre completa la proprietà una stanzetta ad uso deposito sul terrazzo condominiale, ideale per riporre gli oggetti stagionali o per creare un piccolo spazio creativo. La posizione strategica di questo appartamento vi permette di godere della tranquillità del quartiere senza rinunciare alla comodità di avere tutto a portata di mano. Con negozi, scuole e servizi facilmente accessibili rende questo luogo ideale per famiglie, giovani coppie o chiunque cerchi un ambiente accogliente e vivace. Non lasciatevi spuggire questa opportunità, contattateci oggi stesso per prenotare una visita e scoprire di più su questo fascinante appartamento a Trani. Ciao alla prossima!